Continuano le indagini sul tentato furto messo a segno da una banda di ladri al centro commerciale Siniscalchi. Solo l'allarme ha messo in fuga i malviventi che sono entrati in azione in piena notte. Con un piede di porco i ladri sono riusciti ad entrare nell'attività commerciale e mentre si dirigevano verso le casse è scattato il sistema di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della questura di Salerno intervenuti sul posto i ladri sono riusciti a manomettere uno dei cancelli di ingresso dell'attività per poi scardinare la saracinesca con il piede di porco. Il tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti ma i ladri sono stati messi in fuga dall'allarme che è scattato dopo pochi minuti. I malviventi quindi a mani vuote sono fuggiti via provocando però un bel po' di danni all'attività commerciale.